Tieni il ferro, vedi un po' se riesci a tappare, vedi un po', come? Che cosa è privata? Questa è una fonte pubblica e non c'è il cartello di vieto di accesso, né di vieto di entrata. C'è solo un cartello di vieto di buttare i rifiuti, come voleva si dimostrare. Si riesci? E vai Teseo! E vai Teseo!